Oh scusate il microfono, ciao a tutti amici miei che sono rossaggiata oggi pur un tafaccio come se due vippe, invece non ho bevuto e allora sono qui naturalmente per fare tantissimi auguri ad una nostra amica e soprattutto a una persona che mi stima tantissimo e la vedo che manda molto spesso i super grazie per sostenere questo canale, quindi non potevo che non essere qui perché veramente io leggo quando lei scrive, come ride e come mi stima Lili Palumbo è il tuo compleanno, io ti faccio tantissimi auguri con questo bel video dedicato a te, va bene? Oltre a te naturalmente oggi ci saranno tantissime persone che magari fanno il compleanno e io faccio gli auguri, ma si sente sul microfono, anche a loro, va bene? ma principalmente Lili a te, ok? A te, buon compleanno, cento, cento, cento di questi anni, lo sai che io non dico cento di questi giorni? Vabbè, cioè cento di questi giorni che sono cento, io è una FN, io pensava, poi mi hanno detto no, cento di questi giorni è come dire cento di questi giorni, di questi anni, è di questo anno che tu hai una narriera, no? Quindi cento, cento anni, cento di questi anni, ancora cento di questi anni, ok? Io sogno la così, va bene? E ti raccomando se c'è la torta, tutte cose, festeggia e viva Lili Palumbo, buon compleanno da parte mia e sicuramente in questo video tantissimi amici che ti vogliono bene, ti faranno anche gli auguri loro, ok? Ne sono più che certa Un abbraccio a tutti voi che devo andare a cucinare, che cucinare? Stasia un salcio se mangiare, sgombro, ma sgombro quello nel barattolo, sapete che buono? Mi piace questo nella scatola, mi piace, lo trovo, ci scolo l'olio e ci metto un po' d'olio sopra Buono, il limone, ma non ne mangio una scatola, signori miei, manco ma resta qua, d'oriente di Dentexpert, di Palermo, minimo tre scatole me ne devo mangiare io, perché mi faccio il piatto bello pieno, poi ci metto un cucitieda, noi qua ci diciamo cucitieda, le pomaroro, ma sai che cos'è? La fine del mondo, ok? È veramente la fine del mondo Lilli, auguri, buon compleanno e auguri a tutti quelli che oggi fanno gli anni, ok? E anche l'onomastico, tutto quello che è A presto, ciao, ciao